La Lamborghini Aventador Il nuovo e ultimo gioiello della casa di Sant'Agata Una macchina che ha dei contenuti tecnologici veramente avanzati Rispetto al modello precedente ha un telaio in fibra di carbonio Delle sospensioni push-road direttamente derivate dalla Formula 1 Un cambio che permette delle cambiate di 50 millisecondi Che sono veramente al top come performance al giorno d'oggi Come performance, se parliamo di performance, lo 0-100 da segnalare in 2.9 secondi Che è un'accelerazione veramente mozzafiata E questo grazie anche a un sistema che assiste la partenza Grazie a tutti Grazie a tutti La velocità massima è di 350 km all'ora Che da dire sembra un numero banale Ma quando si va a 350 km all'ora si entra come in una nuova dimensione Dove le performance, le sensazioni ti avvolgono completamente Su questa macchina con una sensazione di stabilità incredibile Perché l'aerodinaica è stata studiata con un'ala posteriore Che va nella posizione da permettere le massime performance Un fondo estrattore che comunque garantisce un effetto suolo incredibile Quindi la macchina nonostante sia velocissima è anche molto stabile Il motore è 6.500 di cilindrata a 12 cilindri 700 cavalli Che si sentono veramente tutti quando si guida Nel sistema di guida ne abbiamo tre diversi che sono lo strada, lo sport e il corsa In strada la macchina è molto morbida, confortevole Trasmette la coppia in modo dolce all'anteriore E questo per facilitare la guida alle persone meno esperte Mentre quando siamo in sport abbiamo un po' meno coppia all'anteriore E un po' più di coppia al posteriore Questo fa sì che la macchina abbia un comportamento dinamico più sportivo Per il piacere di guida Mentre quando si passa in corsa La macchina offre le performance migliori Con un bilanciamento che predilige proprio la performance pura La Lamborghini con la Ventador È la prima casa automobilistica a utilizzare la tecnologia del monoscocca in carbonio Per vetture di piccola serie Con una vasca e il tetto integrato Questo garantisce un'estrema affidabilità e sicurezza per il conducente Questa tecnologia inoltre ha ispirato l'utilizzo di un carbonio morbido Per rendere possibile la creazione di un kit di valigie dedicato a questa vettura La Lamborghini Aventador monta dei pneumatici Pirelli P-Zero Appositamente sviluppati in collaborazione con Pirelli Garantiscono delle performance incredibili alla vettura E questo grazie anche ai freni carboceramici di ultima generazione Grazie a tutti Grazie a tutti